Due furti, cioè uno, due a segno, l'altro praticamente era il mio, il terzo furto, non tentato furto, nel senso come dire, il tempo che sono uscito, sicuramente sarebbero entrati anche nel mio appartamento. Torna l'incubo furti a Ponticino, la frazione alle porte di Arezzo è tornata infatti nelle mire dei ladri, due case sono state svaliggiate, un terzo colpo invece è stato sventato grazie al passaggio di un cittadino. Adesso è caccia alla banda che si sarebbe data alla fuga a bordo di una lancia delta grigia. Gli ultimi furti si sono consumati lo scorso 29 dicembre, attorno alle 18, tre malviventi, due uomini e una donna sono entrati in azione. La banda prima ha forzato ingressi e finestre di due case e poi è riuscita a far razzia di preziosi denaro e costose pellicce. Il terzo colpo invece è nato a vuoto, la banda è stata infatti sorpresa da un passante che stava portando fuori il cane. Ho visto questo ragazzo che passava, cioè mi insospettivo perché non è una faccia della zona, praticamente il tempo di portare il cane fuori, questo qua in un attimo mi è sparito. Mi è sparito, secondo me si è infilato nella macchina. Ho temporeggiato un minuto, un minuto e mezzo, questo qui riesce dalla macchina, ma visto di nuovo che io ero dietro la macchina sua, che fa piglia e sicuramente fa una telefonata all'interno che c'era la complice. Mezzo minuto di tempo uscì questa ragazza che era la sua complice nella sua macchina, praticamente che era una lancia delta grigia, e partirono. La frazione è così ripiombata nell'incubo vissuto due anni fa, quando era stata più volte bersagliata da banditi. Sempre nel paese si consumò anche una violenta rapina. All'epoca i residenti si organizzarono con gruppi whatsapp e ronde notturne. La mente ritorna sempre a due anni fa. Abbiamo passato, come dicevo, ci sfidavano praticamente. Entravi di là, loro scappavano di là. Andavi di là che suonava l'allarme, facevano il colpo e poi riscappavano da un'altra parte.